in grado di poter competere ai massimi, quindi i livelli. Quindi volevo sapere come si chiude questa stagione e come si inizia subito a lavorare alla prossima. Grazie. Allora, questa stagione non è ancora chiusa, però non sono così ingenuo da non cogliere il senso vero della sua domanda. Il fatto che ci sia qui io oggi è perché voglio assumermi tutte le responsabilità del fatto che noi, Società Genua, abbiamo il dovere di, non avendo più alibi nel passaggio di una società da una proprietà all'altra, costruire un futuro in modo tranquillo, in modo pensato, in modo ragionevole, in modo razionale, in modo che tutti gli ingredienti ci portino ad un risultato che in qualche modo avvicini il risultato finale a quello che ci chiede la nostra gente. Oggi io sono veramente affranto, oggi io mi sento di chiedere scusa ai nostri tifosi, so gli sforzi che hanno fatto, so che non è banale assumersi l'onere di pagare 35 euro per entrare in questo meraviglioso stadio assommati a tutto quello che è il costo di una trasferta, anche in termini non economici. Abbiamo affrontato una grande squadra, nessuno ci ha fatto sconti, questo in qualche modo risponde a quelle che devono essere le regole della serietà, e lo dico guardandovi negli occhi, e della trasparenza, di cui noi genuani, diciamo, almeno da quando ci sono io, dobbiamo essere fedeli interpreti, per cui non diamo colpe a nessuno, non ci sono state torte, abbiamo celebrato un grande campione che lascia il campionato italiano, siamo venuti qui a giocarcela, è andata come è andata, perché evidentemente il divario tecnico tra il Napoli e il Genoa è un divario tecnico importante e quindi è da lì che dobbiamo partire. Buon pomeriggio, Giuseppe Lombardi di pianetanapoli.it. È chiaro che questo risultato doloroso fa sì che siano difficili immediatamente delle valutazioni, però è anche vero che negli ultimi mesi si è visto un Genoa diverso, sia per l'equilibrio trovato in mezzo al campo, ma anche con tanti giovani che voi avete lanciato nelle varie zone del campo. Ecco, io le volevo chiedere, in vista della prossima stagione, che salvo clamorosi colpi di scena, comunque sarà in Serie B, quanto sarà importante ripartire dai giovani ed eventualmente ancora dalla guida di Blessin, che comunque ha dato una sua impronta importante in questi mesi? Guardi, lei sa che alla fine conta la solidità, conta il progetto vero, conta il progetto sostenibile e riproducibile, quindi i nomi non contano nulla, i giovani non contano nulla. Bisogna che questi giovani, per non bruciarli, facciano parte di un progetto serio, facciano parte di un progetto pensato. Ok? Quindi, io credo che noi tutti siamo chiamati, soprattutto dopo oggi, perché oggi praticamente che cos'è che è successo? È successo che qualcuno ci ha detto, sì è vero, hai fatto quello che hai fatto, però non sei sufficiente per giocare a questi livelli. Se vuoi continuare a competere con noi, adeguati. Poi è chiaro che tre squadre devono andare in Serie B, tre dalla Serie B vanno in Serie A, però alla fine bisogna farlo, come dire, consapevoli di avere fatto il massimo. Noi abbiamo una serie di alibi, noi come società, a cui io non mi richiamo. Non mi richiamo perché non è giusto, non mi richiamo perché bisogna, come io amo fare nella mia vita di tutti i giorni, perché il calcio è un gioco, però è una cosa seria, per richiamarsi a quei valori, a quei principi che non rendono tutto una barzelletta. Quindi qui non è questione di stranieri, di giovani o di meno giovani, è questione di essere credibili nel nostro progetto. Quando riusciremo a essere credibili nel nostro progetto, allora io posso andare anche davanti alla gradinata nord a prendermi i fischi che merito, altrimenti è meglio che me ne vada. Salve Presidente, Marino Teleclub Italia. Le ha parlato prima dei tifosi, no? Non ho capito da dove? Teleclub Italia, ma è stata locale. Le chiedevo, lei ha parlato dei tifosi prima, oggi hanno dato una grandissima prova, no? Fino alla fine della partita hanno continuato a cantare, a sventolare le bandiere, quindi uno spettacolo bellissimo. Non è da oggi. C'è qualcosa che li terrà ancora legati, visto purtroppo anche la probabilità, quasi certa retrocessione? C'è un progetto per tenere legati i tifosi alla squadra? Per legare i tifosi alla squadra devi essere credibile. Se io racconto delle balle ai parenti del mio malato che sta morendo, prima o poi faccio una brutta fine, eh? Io sono abituato a non fare il buffone nella vita. Per cui i tifosi ci hanno concesso un credito enorme. Un credito che è durato praticamente dal primo terzo di campionato. Abbiamo esaurito quel credito. Lo abbiamo esaurito. L'ho esaurito io. L'ho esaurito la proprietà. L'hanno esaurito i dirigenti. L'ho esaurito la società. L'hanno esaurito i calciatori. Tutti noi lo abbiamo esaurito. Io parlo a nome di tutti. Siamo contenti? The last one. Antonio Pedrazzuolo di Napoli Magazine. Presidente, ma nelle sue parole c'è più rammarico, delusione? Sembra quasi che stia pensando realmente di lasciare il geno. Non mi sbaglio. Assolutamente no. Vede, in un certo senso, che questo atto doloroso, che non è ancora aritmeticamente sancito, capiti a Napoli, in qualche modo è un segno. Perché noi siamo molto amici nella società del Napoli, dei colori azzurri. La nostra tifoseria è amica della tifoseria del Napoli. E oggi, in qualche modo, siccome i nostri calciatori avevano bisogno di un clima non ostile, ve lo dico proprio nel rispetto del gioco del calcio, ho sperato, vi dico la verità, che ci fosse una sorta di cambiamento in corso. E devo dire che il tifoso vero del Napoli ci ha capito. Ha capito la nostra sofferenza, ha capito il nostro dramma. Perché poi, alla fine, il calcio è fatto delle persone che vanno on the pitch, ma è fatto soprattutto da chi ci guarda. È a loro che dobbiamo dimostrare credibilità, se no non ci vengono più a guardare. Diciamo che noi, ultimamente, abbiamo fatto poco per richiamare i nostri tifosi. E ciò nonostante, sono venuti. E questo è un grandissimo monito. E noi dobbiamo essere in grado di coglierlo. Quindi io oggi, e lo dico veramente pubblicamente col cuore, Io oggi, in fondo, sono contento che sia accaduto qua, perché considero Napoli, sento Napoli nel mio cuore. E sono sicuro che alla fine il sodalizio tra Napoli e Genova risorgerà. Oggi dovevate celebrare un grande campione, oggi c'era un clima che in qualche modo ha creato questa situazione, ma è giusto che sia andata così. Perché oggi si è vista una squadra forte, importante, che in fondo ha avuto anche il rispetto di noi. Come noi abbiamo avuto il rispetto del grande Napoli. E quindi veramente vi ringrazio. È un insegnamento, la vita ci insegna tante cose. Oggi ho imparato delle cose in più. Spero di poterle interpretare per il bene del calcio, per il bene del Genoa, per il bene dello sport. Grazie.